Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Senjutsu, Battaglia per il Giappone, gioco competitivo da 1 a 4 giocatori a cura di Pendragon, in questa edizione italiana a cura di Pendragon, che io ringrazio di cuore e immensamente, come sempre, per la copia offerta per la recensione. Si torna nell'antico Giappone, nel classico periodo feudale, periodo Edo, periodo Senjutsu, comunque nel periodo d'oro della storia feudale giapponese, laddove i samurai e le armate sotto lo shogun o l'imperatore si davano battaglia, come ad esempio nella grande battaglia, mi viene in mente, di Sekigara. Questo Senjutsu, per quanto il titolo dica Battaglia per il Giappone, una si immagina la mappa del Giappone da conquistare, è un gioco di scontri fra samurai e, o per meglio dire, fra combattenti, quindi sarà uno scontro fra due o più giocatori che si troveranno sul campo a guidare un combattente, un bushi, che dovrà sconfiggere il combattente avversario, quindi un gioco di schermaglie dove andrete ad utilizzare un solo personaggio. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Senjutsu, Battaglia per il Giappone, in questa edizione italiana, cura di Pendragon, è un gioco, come detto a poc'anzi, di schermaglie, dove vi troverete ad utilizzare uno dei quattro personaggi che sono all'interno della scatola e dovrete fare dei duelli su una mappa esagonale, tra l'altro anche ben resa, veramente molto carina, dove dovrete anche andare a posizionare delle rocce, un portale tori, ad esempio, o anche altre cose, comunque dove andrete a posizionare degli scenari e immaginatevi il classico scontro fra due samurai, o per meglio dire due bushi, due combattenti, come fu sull'isola di Ganryo resa famosa fra Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro. Quindi immaginatevi questi due samurai che si combattono al tramonto, ognuno con la propria scuola e la propria tecnica, perché in questo gioco ogni personaggio è differente dall'altro, ogni personaggio ha le sue carte e soprattutto un valore di punti ferita. Punti ferita che, banale dirvelo, una volta raggiunti, o per meglio dire persi, il giocatore sarà sconfitto e nel caso della partita 2 l'altro giocatore avrà vinto la partita. Quindi nel caso il vostro combattente abbia 5 punti ferita, quando subirà la quinta ferita sarà a terra senza possibilità di rialzarsi e la partita sarà vinta dall'altro. È un gioco veloce, dinamico, poi ovviamente la considerazione ve la do a fine video, e la scatola riporta dai 14 anni in su, sì, infatti ve lo voglio spiegare alla fine, mi ci trovo perfettamente stavolta con l'età, è un gioco che dura 20 minuti. Ragazzi, 20 minuti è una partita a Warhammer Underworlds, è veramente velocissimo, ma perché? In questo gioco ci si mette sulla mappa, con i nostri personaggi si parte uno da una parte della mappa e uno all'esatto opposto e con il nostro mazzo all'inizio si vanno a pescare delle carte a tenere una mano tanto quanto il valore di mano del personaggio scelto. Quindi non tutti avranno lo stesso valore di mano, magari c'è un personaggio che tiene più carte in mano ma ha meno punti ferita, ad esempio per andare un po' a bilanciare. Quando si vanno a pescare queste carte se ne può giocare una coperta, il nostro avversario farà lo stesso, ne giocherà una coperta, al momento che le due carte saranno girate si andranno a rivelare e il valore in alto a sinistra è l'iniziativa, quindi la carta con il valore più alto sarà quella che agirà per prima. Nel caso si ha un attacco, arriverà prima l'attacco del valore più alto rispetto a quello più basso, un 7 e un 5 arriverà prima il 7 e poi il 5, oppure nel caso di una parata, la parata dovrà avere lo stesso valore di iniziativa dell'attacco perché se no non è stata abbastanza veloce da parare, questa meccanica a me piace molto, e l'attacco è entrato prima. Quindi non vuol dire che se prendi una carta parato hai parato, no, deve essere della stessa iniziativa dell'altra se non più alta. Le carte vanno lette dall'alto verso in basso, quindi le carte hanno diversi prerequisiti, ad esempio delle risorse tipo la concentrazione che vanno utilizzate, oppure un Kame, Kame, c'è scritto Kame, dovrebbe essere Kame o Kama, comunque lo chiamo Kama. Un Kama che è una forma di combattimento e ce ne sono tre nel gioco. Se la carta ha dei requisiti di Kama, magari ha un Kama verde, e io in quel momento sono nello stile di combattimento col Kama giallo, non la potrò assolutamente utilizzare fino a che non mi sposterò, giusto appunto, nel Kama, nello stile di combattimento di scherma del Kama verde. E quindi hanno diversi prerequisiti. Si legano dall'alto in basso, ci sono di solito delle frecce movimento o la possibilità di ruotare il proprio personaggio, perché il proprio personaggio ha un fronte, che è una freccettina alla base, e quindi sarà possibile essere colpiti alle spalle senza poter contraattaccare o difendersi. Quindi conta molto il fronte del personaggio. Ci saranno, come detto, dei movimenti, delle rotazioni, e i punti esclamativi sono sempre attacchi e gli scudi sono sempre difese. Quindi basta leggere la carta dall'alto verso il basso per capire cosa fare. Delle linee bianche sono facoltative. Ti vuoi muovere? Ti muovi. Ti vuoi ruotare? Ruoti. Non lo vuoi fare? Rimani sul posto. Delle linee nere su una carta vuol dire che lo devi fare per forza. Quindi se devi fare due spostamenti avanti e ruotare due volte, ad esempio, dovrai farlo per forza in quel caso. Come si fanno le ferite? Non ci sono dadi, si gioca tutto con le carte. Quindi si mettono le carte in campo, magari il mio attacco ti ha preso, la tua difesa era troppo lenta, cioè ci sono sopra due punti esclamativi nel fronte davanti a me, se nel fronte davanti a me dell'attacco ti ho colpito e ti ho fatto dei punti ferita. Come arrivi a 4, 5, 6, a seconda del personaggio che hai, sei sconfitto. Quindi comunque come gioco è veramente veloce e non c'è tiro di dado. Quindi qui l'alea, sì, un po' di alea c'è ovviamente perché peschi le carte e non sai cosa avrai in mano, ma hai sempre un ventaglio di scelte, hai una mano di carte, non ce n'hai una soltanto. Quindi te la organizzi la tua tattica e non c'è da dire magari ho tirato o no o ti ho mancato. Ecco, è un gioco di schermaglie, non è assolutamente un wargame. E c'è anche la parte, un manualetto per chi se lo volessi giocare in solitaria, dove all'interno ci sono anche degli standi di cartoncino di soldati dell'antico Giappone, quindi con una modalità storia, campagna. Non soltanto lo giocate in PvP, ma se siete in solo potete giocare una vera e propria storia. Quindi è doppiamente interessante. Concludo dicendo che questo Senjutsu, Battaglia per il Giappone, è un gioco veramente veloce, ma due cose mi hanno fatto un po' strano. Ve l'ho detto all'inizio del video, Battaglia per il Giappone, mi immaginavo la Battaglia di Sikigara, invece è un gioco di schermaglie, ma non c'è problema, mi guarda a morire, poi sono mezzo pitturato con roba giapponese addosso, quindi non potevo non apprezzare. La seconda, forse che fa un pochino strano di questo gioco, è che la cosa bella è che non c'è il dado da tirare, si gioca tutto con le carte, però a volte sembra un po', cioè te giocando la tua carta coperta e lui coperta e poi rivelandole, magari vengono fuori delle azioni, dei movimenti, un po' alla Star Wars X-Wing, scordinate, cioè magari si vedono due samurai, uno davanti all'altro, pronti a colpirsi, poi magari quello si sposta a destra e tira un colpo a sinistra, quell'altro si sposta due indietro e tira un colpo in avanti, quindi non si attaccano. Quindi possono succedere un po' cose strane, ecco, si gioca, sembra quasi che i combattenti qui nel mezzo siano bendati, però comunque secondo me il fatto di togliere i dadi e introdurre le carte dà un grande spessore al gioco. Altra considerazione, il gioco è complesso, che non vuol dire difficile, però ha diverse regole, ci dovete un po' entrare in ottica, due o tre partite servano, però poi dopo le partite durano 20 minuti, perché è un gioco velocissimo, in un'ora fate, potete fare un torneo, veramente, in un'ora fate un torneo, fate, se andate spigliate veloci 3-4 sfide, non ve le leva nessuno, ma anche di un quarto d'ora, solo che per spiegarlo c'è bisogno secondo me di due o tre partite alla terza, se dentro l'ottica, ecco, non è immediatissimo, ci vuole sicuramente un paio di partitelle o qualcuno che te lo spiega la prima volta. Assolutamente consigliatissimo e ringrazio Pendragon per la copia fornita, se lo volete ordinare, come sempre in tutti i video, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla GiocoLibreriaSemola, nostro negozio sponsor, non soltanto al miglior prezzo sul mercato, ma se andate sul sito della GiocoLibreriaSemola e non lo trovate in lista, se in jutsu non c'è, oppure lo trovate ma le copie in magazzino sono finite, scrivete al supporto della GiocoLibreriaSemola e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan. Il negozio farà il possibile per trovarvelo, se lo ha finito lo riordina per voi, se proprio non ce l'ha in catalogo ma è reperibile ve lo ordina, ordina anche roba fuori dal catalogo, quindi sbizzarritevi anche a chiedere giochi che vengono dall'estero, oppure ho visto un gioco che vendono solo in America, il gioco di Halloween, il gioco di non aprite quella porta, si può ordinare, ve li ordina, ve li importa pur di venderveli, quindi il giocoLibreriaSemola è sempre un servizio top dell'eccellenza e della cortesia. Vi ricordo sempre di usare i codici discount Coridan7 per avere uno sconto del 7% in ogni acquisto Coridan7, scritto in descrizione, e per spese superiore ai 79€, spedizioni gratuite in tutta Europa, quindi lo ordinate magari state in Francia in 48 ore dall'Italia, ma arriva direttamente a casa. Il servizio è eccellente, provare per credere. Io ringrazio ancora una volta Pendragon e dateci un'occhiata. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch man a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!